Il Comune di Anagni, nell'ambito della politica di alienazione, valorizzazione delle proprietà comunali e in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 18 marzo 2016, ha pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'acquisto dell'immobile denominato Ex Deposito Munizioni di Anagni. L'area occupata dall'Ex Deposito Munizioni di Anagni si estende per circa 190 ettari nella porzione meridionale del territorio cittadino e si trova in posizione baricentrica rispetto alle due importanti direttrici di collegamento. L'autostrada A1 Milano-Napoli, visibile dalla parte più elevata del terreno, e la linea ferroviaria Roma-Cassino e TAV, limitrofa nella parte sud-est. Il compendio immobiliare è stato acquisito al patrimonio comunale nell'anno 2010 dal demanio dello Stato. Dal punto di vista orografico l'area si configura come un susseguirsi di piccoli rilievi e vallette, con piccoli dislivelli che movimentano i profili altimetrici. L'altezza massima arriva a 220 metri sul livello del mare, mentre la minima è 170. All'interno di questa porzione di territorio, a prima vista incontaminato e nascosti dalla vegetazione esistente di origine antropica e naturale, si nascondono i vecchi depositi di munizioni e gli accessi ai cunicoli sotterranei. È ancora esistente e percorribile la viabilità interna che consente di scoprire l'intera area con estrema facilità. L'indagine del Comune di Anagni è destinata a verificare la disponibilità da parte di operatori economici a presentare la propria offerta per l'acquisto dell'immobile. L'avviso è propedeudico all'espletamento di procedura ed evidenza pubblica finalizzata all'alienazione del compendio immobiliare tra coloro che hanno manifestato interesse all'acquisto, i quali saranno invitati con specifica comunicazione. L'amministrazione si riserve il diritto di invitare alla successiva procedura di vendita esclusivamente coloro che hanno manifestato interesse all'acquisto in questa fase. Al momento della presentazione della candidatura è necessario presentare, oltre agli altri documenti citati nell'avviso, soprattutto una proposta contenente una pluralità di funzioni compatibili con l'area e con il contesto nel quale è inserita. Si considerano compatibili le seguenti funzioni commerciale, direzionale, terziaria, ricreativa, naturalistica, didattica, espositiva, congressuale, agricola, sportiva, turistica, innovazione tecnologica. Sono inoltre considerate compatibili tutte le funzioni di pubblica utilità. La proposta dovrà adeguarsi al contesto ed essere compatibile con i valori paesaggistici dell'area sulla quale si innesta. È necessario allegare una dettagliata analisi dei costi di realizzazione attraverso un piano economico finanziario sottoscritto da Primario Istituto di Credito. Le proposte dovranno essere consegnate al protocollo del Comune entro le ore 12 del 29 luglio 2016. Nella fase successiva, a fronte dei progetti pervenuti, sarà avviata la procedura di variante urbanistica per acquisire la destinazione compatibile con la proposta che l'amministrazione riterrà più vantaggiosa e successivamente si procederà al bando di venta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!